Noi balliamo, noi balliamo, per essere costretto per lavorare, ricatto dal permesso di sciogiorno con 20 euro al giorno. Conseguenza, mercato del lavoro e va sotto e stessa datore del lavoro all'Unitaliano offre forse 30 euro, 40 euro massimo. Perché questo è un collegamento dell'istruttamento, quando uno senza permesso di sciogiorno noi non abbiamo possibilità di alzare la testa o alzare la testa. Oggi non c'è lavoro, tu offri, chieda un'offerta di lavoro e prende il permesso di sciogiorno, ma va. Lo sai quanto costa questa tassata di un documento? Quanto chiede il datore di lavoro? Minimo 5.000 euro più contributi dell'istruttamento. Noi siamo amici! Permesso per tutti! Non voglio lavorare nera! Voglio pagare tasse! Voglio rispettare le leggi! Non per tutti! Questa è la roba! Vi voglio dire tanto una parola, vi prego, per altri 30 secondi! No. 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 Grazie a tutti